La giovinezza è bella perché vivi nella ricchezza del tempo che hai. La seconda metà della vita è bella per ciò che vivi. Gli ultimi tempi vivi della saggezza che ti concede la tua efficienza mentale e ogni tuo gesto, anche se lento, spreciso, interrotto, è un disegno fatto col pennello della dignità nell'immenso supremo quadro della vita e quel quadro si vede solo con gli occhi della virtù. Grazie a tutti.